Buonasera, ben ritrovati con il nostro TG Oggi, apertura con un dramma nella fiume Secchia, nella zona di Borgo Venezia, nella comune di Sassuolo. È stato recuperato dai soccorritori nelle acque il corpo senza vita di una diciottene di origine marocchina, residente però nella zona. È la sorella di una bimba di 9 anni che era stata trovata poche ore prima e di una 22enne ricoverata d'urgenza in ospedale. Una quarta sorella e salva per fortuna erano andate tutte al fiume per fare un bagno. Truffa internazionale a Ravenna, i danni di un tedesco che opera nel mondo della musica alla quale sono stati sottratti ben 70 mila euro. Abili truffatori di origine romana hanno invitato l'uomo a visitare anche la presunta sede della società nella capitale qualche giorno fa prima di far visita a Ravenna in un bar che il tedesco avrebbe poi dovuto acquistare. Peccato che giunti proprio al bar con una scusa i due si sono allontanati senza più far ritorno portandosi via anche i 70 mila euro che avrebbero dovuto costituire un anticipo sul prezzo dell'attività commerciale. Presentati dalla regione Emilia Romagna invece i provvedimenti che saranno presi in merito al contrasto della diffusione delle mafie, i provvedimenti che interessano tutte le province della nostra regione saranno finanziati per oltre una milione di euro tra le attività, la costituzione della consulta contro le mafie con la partecipazione di Rando e Cicconti e gli esperti coinvolti insieme ai rappresentanti delle istituzioni del mondo economico e sociale. I dettagli nelle interviste del presidente della regione Stefano Bonaccini e l'assessore alle politiche per la legalità Massimo Mezzetti. Presentiamo un pacchetto di proposte dal finanziamento di un milione di euro per progetti come avevamo promesso e garantito su tutti i temi che riguardano appunto la lotta contro l'illegalità, la prevenzione contro l'illegalità, la diffusione di una cultura per la legalità e il rispetto delle regole. Abbiamo detto che la lotta alle mafie e all'illegalità sarà uno dei pilastri dell'azione di governo di questi anni. L'istituzione della consulta che avevamo indicato e scritto nel programma che sarebbe stata istituita dopo pochi mesi che saremmo entrati in carica e quindi questo è un altro impegno che avevamo promesso e che manteniamo. La richiesta che ha accettato all'avvocato Enzarando conosciutissima soprattutto per gli impegni, come dire, la spesa personale e professionale in questi anni nel contrasto alle mafie della cui professionalità mi avvarrò anche per arrivare all'inizio del prossimo anno a scrivere il testo unico della legge contro le mafie per la legalità. Insomma una serie di provvedimenti che abbiamo presentato che vanno nella direzione, come avevamo detto, di dare un segnale ben preciso e d'altra parte, se ricordate, nel patto per il lavoro che abbiamo sottoscritto con tutte le parti sociali, una delle appendici dei capitoli che lo completano è dedicato appunto a tutti i temi della legalità. Noi in questi mesi abbiamo lavorato anche dopo l'approvazione in aula della riforma della legge 3 del 2011, quella sulla legalità e la prevenzione del crimine organizzato e diffusione della cultura legalità per una cittadinanza responsabile. Abbiamo lavorato in un pacchetto di interventi, fra questi c'è l'istituzione della consulta per la legalità del crimine organizzato in Emilia Romagna, abbiamo deliberato in giunta la sua composizione e la sua formazione, all'inizio di settembre la convocheremo in prima seduta e sarà chiamata a lavorare intorno al testo unico per la legalità e le normative sugli appalti nella nostra regione che appunta a semplificare la normativa, riunificarla e razionalizzarla in un unico corpus legislativo, quindi tutta la materia degli appalti, la materia che riguarda l'usura, i beni confiscati, l'intervento complessivo sulla legalità e la prevenzione del crimine organizzato, come dicevo, perché come regione noi dobbiamo, non abbiamo né compiti giudiziari né inquirenti, ma dobbiamo intervenire su una normativa che crei in modo semplificato una fitta rete di un setaccio che impedisca la penetrazione dell'economia illegale nella nostra economia, inquinandola e somvertendola. E ora come di consueto operiamo la pagina dedicata all'estate via la sigla della Tg Estate. Una seconda edizione all'insegna dei grandi numeri, quella della notte con il cuore più grande dell'estate, la notte rossa che arriva dopo quella celeste e quella rosa che è interamente invece dedicata alla donazione del sangue. Realizzata da DWS con il patrocinio della comune di Ravenna sabato 1 agosto sulla spiaggia del mare blu di Punta Marina, la manifestazione è stata molto partecipata, come ci spiega Flavio Vichi, volontario componente del CDA di ADVS. Questa sera è la seconda edizione anno 2015 della notte rossa, una serata interamente dedicata alla donazione di sangue organizzata da ADVS, i donatori di sangue dell'ospedale di Ravenna. Un modo per avvicinare la gente a questo gesto salvavita, in estate c'è sempre bisogno di sangue ancora di più a causa delle vacanze estive e a causa del grande caldo che c'è durante l'estate, le donazioni purtroppo diminuiscono mentre aumenta da parte del Servizio Sanitario Nazionale la richiesta di sangue demoderivati. Tutti i giorni la cronaca ci parla di incidenti stradali, gli incidenti stradali richiedono emotrasfusioni, le patologie croniche a loro volta richiedono emotrasfusioni durante tutto l'arco dell'anno, quindi soprattutto d'estate è importante venire a donare il sangue. Questa sera è una serata di divertimento qui a Punta Marina Terme, tanta bella gente, il meteo ci sta aiutando per fortuna, abbiamo tanti spettacoli, abbiamo organizzato una serata per le famiglie, per i bambini, per i ragazzi, alle 11 avremo lo spettacolo finale di fuochi d'artificio e speriamo di vedere tante persone dopo questa serata sui nostri lettini al Servizio Trasfusionale dell'Ospedale della Vemma a donare il sangue. è l'unica tappa emiliano-romagnola dunque. Il Vertical Summer Tour è un evento sulle spiagge che unisce animazione, giochi, sport, un evento itinerante in otto tappe, partito due settimane fa da Pollonica che si concluderà a fine agosto nella città di Catania. Cercheremo di portare tanta animazione, tanto sport, quindi tornei di bici volley, tornei di calcio balilla, porteremo questa nuova disciplina che arriva direttamente dall'Hawaii che è il SUP dove viene praticata praticamente con una tavola da surf stando in piedi con la pagaia. Quindi veramente tante attività aperte a tutti, ai più giovani, ai più datati, comunque proprio per tutte le età. L'idea del Vertical Tour in generale è nata otto anni fa sulle montagne, quindi da qui il nome Vertical Tour. Poi la normale prosecuzione dalle montagne si è passati sulle spiagge e quindi giustamente abbiamo cercato di portare dei contenuti nuovi, delle attività diverse per far divertire le persone, per farli passare due giorni un pochettino diversi sulle spiagge oltre che prendere normalmente solo il sole. Ci siamo divertiti tanto, si sono provate anche nuove attività, proprio anche in mare e dei grandi tornei, anche quasi dal quindicenne fino al settantenne e tutti si sono divertiti ed è rimasto un grande ricordo con queste attività. Il bello è stato vedere queste persone rilassate che magari leggevano un libro o che guardavano così il tablet, subito alzarsi in piedi, incuriosirsi e voler provare subito le attività, stancandosi quasi come a lavorare, ma alla fine hanno gradito, alla fine erano gioiosamente stanchi e anzi hanno richiesto che è una cosa che deve avvenire nuovamente, la vogliono ripetere, anzi prendere spunto per poi fare anche noi delle attività in futuro anche tutti i sabati e le domeniche perché il riscontro è stato veramente altissimo da parte di tutti. Noi abbiamo sempre creduto nell'attività sportiva al mare come sistema di vacanza e come modo di fare e di vivere perché abbiamo racchettoni, il campo da beach, il calcetto su sabbia, il canestro, la piscina con possibilità anche di corsi di nuoto e quindi di nuotare, acquagym, zumba, quindi l'attività sportiva quasi agonistica per noi è diventata determinante come proposta per la nostra clientela. Sei barman di fama internazionale, due fuoriclassi enologici dell'Emilia Romagna come Lambrusco e Pignoletto, un palcoscenico come Milano Marittima, simbolo della riviera romagnola e tanta frutta a chilometri zero da bere e da mangiare. È l'originale cocktail di Milano Marittima International Bar Tender, il primo contest realizzato dal Comune di Cervia con la promozione di APT Servizi Emilia Romagna che animerà nel tardo pomeriggio di domani la rotonda primo maggio di Milano Marittima. Ce ne parla l'assessore alla turismo e cultura del Comune di Cervia, Roberta Penso. Domani sera dalle 18.30 alle 24 la rotonda primo maggio di Milano Marittima si trasformerà nel più grande open bar d'Italia. All'interno di esso prenderanno parte questi sei grandi barman internazionali che si sfideranno e attorno a loro si schiereranno anche 11 nostre realtà, realtà molto diverse fra di loro che hanno deciso di scendere in campo proprio per partecipare a questa puntata pilota di questo evento veramente molto innovativo. Un evento innovativo perché prevede che all'interno di questi miscelati di qualità, all'interno di questa mission del bere consapevole, vengono usati degli ingredienti particolari come il lambrusco e il pignoletto, quindi usciamo fuori diciamo da delle bollicine canoniche e l'utilizzo della frutta, frutta a chilometri zero, tant'è che avremo anche 5 produttori che venderanno frutta e forniranno la frutta proprio a questi barman. Bere consapevole, bere con qualità e ammirare anche la professionalità di questi bartender, quindi dei miscelati che vengono concepiti veramente con delle tecniche e quindi uscirà anche fuori diciamo il cocktail dell'estate 2015. Prima di passare alla prossima rubrica vogliamo ricordare che con l'inaugurazione di domani mattina da parte del Presidente Stefano Bonaccini della Piazzetta parte l'avventura dell'Emilia Romagna all'Expo di Milano 2015. I dettagli del calendario di questo spazio che fino al 31 ottobre sarà animato dal sistema regionale emiliano romagnolo, dai suoi territori, dai suoi prodotti sono sul sito di Expo nella portale della regione. L'appuntamento di domani si potrà seguire anche in diretta su Twitter. E ora noi passiamo alla consueta rubrica dedicata ai Lidi Ravennati in compagnia di Coppa Spiagge Ravenna. E oggi invece a proposito di Lidi Ravennati andiamo a scoprire la località di Marina Romea. Ce ne parla il suo referente Stefano Verlicchi. E riteniamo di avere una località abbastanza all'avanguardia per quanto riguarda tutti gli stabilimenti valleari. Offriamo una grande varietà di intrattenimenti per cui insomma siamo un Lido che attrae per lo più famiglie e giovani. Insomma siamo contenti della stagione. Siamo stati assistiti dal tempo per cui siamo molto contenti. Per quanto riguarda i nostri stabilimenti valleari sono rivolti per lo più ai giovani e alle famiglie. Alle famiglie perché comunque è una località molto tranquilla, per lo più di seconde case. Per quanto riguarda i giovani offriamo grazie all'ampio arrenile la possibilità di installare campi da racchettoni, beach volley, calcetti, campi da basket. Per cui abbiamo una grossa gamma di attività sportive che si possono fare in spiaggia. Tutti gli stabilimenti baleari offrono un loro calendario di iniziative che varia dalla notte dei cartoni animati in spiaggia che noi proporremo il 10 d'agosto ai vari magari tornei che ci possono essere di calcetto. Insomma una grossa gamma di eventi. In più abbiamo la possibilità con l'ampia pineta di utilizzarla per passeggiare, dei giri in mountain bike e poi abbiamo la piallassa dove si possono fare uscite anche in canoa, delle escursioni. Per cui insomma c'è una grossa gamma di attività che si possono fare durante il giorno. La sera è una località abbastanza tranquilla, ci sono i piano bar e delle situazioni molto tranquille. Chiaramente siamo lontani da Rimi, dalle discoteche, però insomma se uno poi vuole ci può arrivare tranquillamente. Da una rubrica estiva all'altra, sposiamoci a Cervia Milano Marittima dove grande protagonista è il libro della rassegna Cervia, la spiaggia Melibro, sigla. È stato eletto tra i sette nuovi componenti della CDA della RAI Giancarlo Mazzucca, giornalista da sempre affezionato e ospite proprio lunedì scorso nella veste di conduttore della serata della spiaggia Melibro. La manifestazione dedicata ai libri e alla lettura che sta vivendo proprio il suo clou in questi giorni nella comune di Cervia Milano Marittima. La soddisfazione per il nuovo incarico nell'intervista del neocomponente, lo ricordiamo, della CDA di RAI. Giancarlo Mazzucca per noi. Da tempo seguivo un po' le vicende RAI, essendo stato in anni passati anche membro della Vigilanza RAI e quando ero alla Vigilanza RAI mi ero accorto che la Vigilanza RAI era soltanto una funzione notarile, occorreva per agire entrare nel vertice della RAI, quindi con questo incarico spero di poter fare qualcosa di concreto, di positivo per il rilancio e la modernizzazione dell'interradio televisivo pubblico. Sono anche contento appunto perché così manderemo anche un po' in televisione Cervia e Milano Marittima e i libri di Cervia. Ma detto questo sì, io rimango un grande amico di Milano Marittima e Cervia e i libri, nella serie dei libri di ogni anno, di ogni estate, è veramente un po' fiore all'occhiello di questa spiaggia, per cui senza altro ci tengo a essere un fedele. Da almeno 15 anni ogni anno partecipo alla vostra rassegna, alla rassegna di Cervia, quindi a maggior ragione cercherò di essere presente anche quest'anno e anche nei prossimi anni. Ho presentato questo libro, mi sta dando delle grandi soddisfazioni perché vedo che il personaggio montaneo che è stato il mio direttore, la voce, prima al giornale, è più che mai presente, è più che mai non soltanto monumento ma un simbolo per il mondo della carta stampata e non solo, anche della televisione. E oggi è martedì, dunque, intervista telefonica dedicata alla trebimeteo.com, vediamo che cosa ci attende in questa settimana. Ci attende una settimana di caldo bollente su buona parte delle nostre regioni per la presenza dell'alta pressione nordafricana, quindi una situazione molto simile, anzi uguale al mese di luglio. Tanto sole non solo lungo le coste ma anche in pianura, saranno solamente isolati i temporali sui rilievi. Le temperature saranno in ulteriore aumento nei prossimi giorni, potremmo raggiungere diffusamente punte di 35-36 gradi in Valpadana. Ma non sono escuse perfino in Emilia-Romagna punte anche di 37, localmente 38 gradi. Dagli ultimi aggiornamenti dei modelli la situazione, pur andrà confermata nei prossimi giorni, vede tra sabato e domenica delle infiltrazioni un po' più fresche dalla Francia, quindi atlantiche, che potrebbero dar luogo a qualche temporale non solo sull'arco alpino e sull'appennino ma localmente scendere anche sulle pianure di nord-ovest e l'Emilia. Quindi forse qualche temporale rifrigerante nel corso del weekend. Comunque sarà una situazione che andrà rivista nei prossimi giorni. Dopo l'esauriente panorama della settimana per quanto riguarda il meteo a cura di 3bmeteo.com noi passiamo invece alle previsioni del meteo per domani. Domani c'è l'imprevalenza sereno, poco nuvoloso nel pomeriggio, formazione di nubi, a sviluppo verticale, lunghe rilievi, temperature minima in lieve rialzo con valori compresi fra 23-25 gradi, massimo e presso che è stazionale con valori compresi tra i 28-29 gradi della costa, i 32-33 gradi dell'entroterra. I venti saranno deboli variabili al mattino, deboli orientali durante il pomeriggio, il mare sarà calmo. Anche per questa sera è tutto, il nostro telegiornale regionale si conclude qui, vi lascio in compagnia del nostro approfondimento, quest'oggi dedicato alla festa della frutta di Punta Marina. Una buona serata, un buon proseguimento, domani se lo vorrete sempre alle ore 20 su Nuova Rete con il nostro Tg Oggi.